Anacardi per il tuo cane? Parliamone! Gli anacardi sono un frutto secco che il tuo cane può mangiare e gli fa anche un sacco bene, perché ha delle ottime proprietà antiossidanti e antinfiammatori che hanno effetto soprattutto a livello articolare e muscolare. Quindi ha fatto movimento? Ne ha fatto tanto? Vuoi aiutarlo? Il giorno stesso e il giorno successivo puoi dare un pochino di anacardi. Le arachidi no! E quando vuoi approfondire altri ingredienti vai sul mio profilo, clicca segui e li trovi un sacco di video molto interessanti. Le arachidi, cioè le noccioline, infatti sono leguminose e i cani le leguminose non legano, mentre con gli anacardi va molto bene. In più sono ricchissimi di triptofano che è il precursore della serotonina che è l'ormone del buon umore. E con un nome così le premesse sono chiare. Sempre poi se al tuo cane piacciono effettivamente gli anacardi. E il tuo cane li hai mai assaggiati gli anacardi? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Altrimenti corri e farglieli assaggiare!